Ha commissionato una perizia tecnica e ha diffidato il Comune a dichiarare il porto di Forio inagibile e a sgomberarlo. È l'ultimo atto della battaglia legale che da tempo sta conducendo Aniello Morgera, pescatore foriano e proprietario di un peschereccio. Morgera ha affidato la perizia tecnica al professor Altamura che ha confermato lo stato di inagibilità del porto. Poi tramite l'avvocato Bruno Molinaro ha mosso una diffida al Comune di Forio. Il punto principale per cui il porto sarebbe inutilizzabile è la carenza di certificazione di agibilità per i manufatti realizzati nell'area demaniale. I pontili galleggianti e tutte le altre opere realizzate all'interno dell'area portuale, tra cui anche l'ufficio della Capitaneria di Forio, i bagni e la biglietteria agli scafi, non risultano essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia. Mancherebbero insomma i titoli abilitativi, cioè il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica. Ricordiamo che la battaglia legale di Morgera per il porto va avanti da tempo in un triangolare che vede i protagonisti Morgera, il Comune di Forio e la Regione Campania. E intanto al porto di Forio si dà il via ai lavori di recupero e valorizzazione del molo borbonico e la riqualificazione del molo peschereccio all'interno del porto. Da oggi, 19 novembre fino al 31 dicembre, saranno effettuate queste opere che prevedono l'interdizione dello specchio acqueo interessato. A tal proposito, le imbarcazioni da pesca, ormeggiate attualmente presso il molo borbonico, saranno temporariamente dislocate nella parte del porto attualmente in concessione alla Marina del Raggio Verde. Il punto di sbarco e di vendita del pescato sarà spostato nell'area della protezione civile.